Amici e amici di Rossini TV, buongiorno a voi, siamo al martedì 22 agosto, per prima cosa un saluto a chi già ci sta seguendo attraverso la pagina Facebook, i primi che ci hanno contattati, Antonio, Ornella, Michela, la nostra direttrice Emanuela Rossi, che si unisce a me e a tutti i redattori e i collaboratori di Rossini TV, tutti gli ascoltatori, agli auguri ad Andrea Marcelli che al di là della regia ci sta mandando in onda. Oggi è il suo compleanno, davvero un grande saluto ad Andrea Marcelli che vedete proprio appartiene a questo gruppo straordinario che è il gruppo di Rossini TV, a noi piace questo rapporto con chi ci segue tutte le mattine, siamo proprio a voler intervenire con voi, a voler interloquire con noi. E considerate che oggi è il compleanno anche della nostra segretaria Serena Marchionni, quindi un grandissimo augurio anche a lei di buon compleanno, quindi questo 22 agosto, una data da celebrare. Andiamo a vedere immediatamente la webcam che questa mattina ci porta a Fano, non a caso la città di Andrea Marcelli, siamo al Lido di Fano che poi entrerà nelle cronache della nostra rassegna stampa per una vicenda che riguarda proprio la organizzazione, si può dire commerciale, economica del Lido e vedremo di cosa si tratterà. E vedete il sole che già illumina il bellissimo Lido di Fano col porto, quindi la città della fortuna, anche oggi sotto il sole per i tanti turisti che la stanno affollando e che in questi giorni sono nelle sue spiagge, le locandine di Resto del Carlino e Corriere Adriatico, il Resto del Carlino salvata in mare, cerco chi mi ha strappato alla morte, una vicenda che andremo poi a vedere fra pochissimo, mentre il Corriere Adriatico si sofferma su ciò che è accaduto sul Monte San Bartolo ieri dove un giovane è stato soccorso in quanto si era sentito male durante un'escursione. Poi altre notizie che andremo a vedere insieme, partiamo subito col Resto del Carlino, la prima pagina del fascicolo di Pesaro del quotidiano bolognese, grande fotonotizia dedicata alla VL, vedete quante persone ieri hanno invaso Baia Flaminia per andare a salutare i giocatori in partenza per il ritiro di Carpegna, la VL, ci sono tantissime attese per questa nuova stagione della Carpegna Prosciutto e ieri davvero tantissimi tifosi che hanno voluto essere presenti al momento in cui i giocatori sono partiti e si sono presentati loro i saluti del nuovo capitano Matteo Tambone e via dicendo, vedremo anche questo poi quando affronteremo lo sport. Cerco chi mi ha salvato la vita e qui ci riportiamo alla locandina del Resto del Carlino, è una signora che si è sentita male, pensate, a Baia Flaminia ed è stata salvata peraltro da uno sconosciuto e ora lei lo vorrebbe ritrovare. Tante altre notizie, arrestato con 5 chili di marijuana, brutte questioni che riguardano come sempre gli stupefacenti, poi Michele Mariotti, grande chiusura al ROF, Cerboni Baiardi, il grande intellettuale che è scomparso due giorni fa a Urbino, la città saluta il suo prof. Vediamo il Resto del Carlino, cominciamo a scorrerlo. Il primo intervento è quello dell'assessore Luca Pandolfi che torna sulla vicenda dell'Elvezia, che ieri vi abbiamo già letto, annunciato e riguarda l'accoglienza che in questo hotel viene effettuata ai migranti. La linea di Pandolfi, accoglienza fuori città, no, evoca brutti ricordi, brutti periodi. L'assessore alla solidarietà fa chiarezza sul rapporto con l'hotel, non esiste nessuna convenzione con il Comune, è solo libero mercato. L'Elvezia è uno dei vari hotel, insieme al Marconi e ad altri, che ha deciso di mettere a disposizione delle camere anche per l'accoglienza e anche Caritas si rivolge all'Elvezia. Quando la città della gioia non ha più posto, la città della gioia è l'organizzazione che si occupa dell'accoglienza, non ha più posto nelle proprie strutture, allora chiede ai privati come appunto l'Elvezia, e chiaramente l'Elvezia viene pagato e gli ospiti sono a quel punto, a tutti gli effetti ospiti dell'hotel. Quindi puntualizza Luca Pandolfi, comunque lui non sarebbe assolutamente d'accordo nel creare delle situazioni decentrate per quello che riguarda l'accoglienza. Purtroppo bisogna convivere con queste situazioni, così come hanno denunciato ieri gli abitanti della zona intorno all'hotel Elvezia. La vicenda della Locandina ha rischiato di annegare, ora cerca chi l'ha salvata, vorrei abbracciarlo, sono viva grazie a lui. E c'è la foto di Rosaura Giuseppina Silvestri, la donna salvata dallo sconosciuto a Baia Flaminia. Incredibile retroscena raccontato da lei stessa, pensionata di Colbordolo. Giovedì scorso sono caduta a Baia Flaminia mentre camminavo in acqua, non riuscivo più a muovermi. Per fortuna una persona mi ha tirato fuori dall'acqua quando già stavo perdendo i sensi, ora la signora vorrebbe ritrovare chi l'ha salvata. E ricorre al resto del Carlino, pubblicando anche il numero di telefono al quale eventualmente lasciare notizie su questa persona. Poi sempre a riguardo dei soccorsi, i volontari in bici che viaggiano col defibrillatore a tracolla, sono circa 40 i volontari della Croce Rossa che nel corso dell'estate si alternano lungo la ciclabile e non solo per prestare soccorsi ai bagnanti. Hanno con loro il defibrillatore grazie ai loro interventi, che sono stati già tanti nel corso di quest'anno, sono state salvate diverse persone. Autisti, scuolabus in lotta, non ci hanno pagato giugno e siamo senza TFR. La ditta è la scoppio, la CGL, i sindacati si lamentano, i comuni devono assumersi subito le loro responsabilità. Torna sotto i riflettori il problema dei dipendenti, che sono oltre una quarantina fra Pesaro e Fano, che svolgono il servizio con gli auto e con gli scuolabus, perché a tutte queste persone non è stato ancora corrisposto lo stipendio del mese di giugno, peraltro ultimo mese in cui hanno svolto il servizio, oltre alla correspensione del trattamento di fine rapporto. Persone che in questo momento sono in cassa integrazione, perché l'appalto appunto si conclude sempre nel mese di giugno per poi riprendere a settembre, quindi bisognerà sicuramente risolvere e sanare questa situazione, perché il servizio di scuolabus venga assicurato anche per il prossimo anno scolastico. Poi c'è un intervento della consigliera regionale Micaela Vitri, che ha firmato proprio una mozione riguardo alla parità di genere sulle donne a livello regionale. Le donne vanno difese dalle violenze insegnandolo a scuola. La sua idea è quella di fare un corso di educazione civica improntato alla parità di genere nelle scuole e che questo corso diventi strutturale. Considerate che poi la consigliera sottolinea il fatto come già in Italia dall'inizio dell'anno siano stati compiuti 75 femminicidi, una cifra agghiacciante. E a proposito di pari opportunità per le donne, vedete la iniziativa importantissima dell'Istituto Agrario, a Pesaro il primo con Vittorosa, pari opportunità nello studio proprio sembra fatto apposta questa vicenda vicino a quella appunto collegata alla consigliera Micaela Vitri. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Il prossimo 13 settembre l'Istituto Agrario Cecchi inaugura la sezione femminile dello storico convitto, nato nel 1933 per regio e decreto, con l'istituzione della scuola. Tutto ciò per dare pari opportunità alle studentesse che studiano a Pesaro. Considerate che per raggiungere questo obiettivo ci sono voluti 90 anni. L'evoluzione da scuola prettamente maschile, l'Agrario Cecchi è evoluto, pensate, 1100 studenti fra tecnico e professionale, il 30% di questi studenti sono donne. Nell'indirizzo tecnico la quota rosa sale addirittura al 50% e via dicendo. Poi c'è la storia di una ragazza, pensate, che da Pergola tutte le mattine si muoveva per essere all'Istituto Agrario, quindi due ore di strada fra andate e ritorno, tornava a casa la sera alle 19. Lei racconta invece che grazie al fatto che è stata accolta la sua domanda per essere nel convitto non dovrà più fare le vatacce, chiaramente gli cambierà la vita, potrà approfittare di questa importantissima opportunità. Parità è fatta, almeno a Pesaro, anche le studentesse, scritte le superiori, potranno avere un convitto femminile su cui contare, volendo coronare i propri studi lontano da casa. È davvero un grande risultato. L'Aspes batte cassa e c'è una vicenda antipatica che riguarda il patron dell'Ital Service, Lorenzo Pizza, che secondo l'articolo del Resto del Calino non avrebbe ancora corrisposto la società all'Aspes. I 5 mila euro di affitto per l'utilizzo della Vitri Frigo Arena in occasione del play-out del 27 maggio in cui l'Ital Service conquistò il diritto di restare in Serie A di Calcio A5. Dunque, probabilmente si tratta di una dimenticanza, fatto sta che l'Aspes batte cassa, chiede 5 mila euro a Lorenzo Pizza e questa situazione a presto dovrà essere comunque sanata. E considerate che quest'anno poi c'è tutta la ricostruzione della vicenda del pala pizza, il pala sport costruito dove c'era una volta la fiera di Pesaro, dove per tanti anni ha giocato l'Ital Service che per anni si è chiamato appunto esattamente col nome del padre di Lorenzo Pizza. E tutta questa vicenda viene riportata da Restore Carlino che comunque sottolinea come in questo momento l'Aspes abbia richiesto 5 mila euro alla Ital Service. Bella intervista a Michele Mariotti, il grande proprio direttore d'orchestra pesarese, vedete in questa foto straordinaria la sua grinta mentre proprio dirige l'orchestra. Intervista al direttore in vista del grande concerto di domani per la chiusura del ROF, domani finalmente vedremo impegnato a ROF Michele Mariotto dopo qualche anni. Lui stesso dice che è una grandissima occasione, un grandissimo piacere, un onore addirittura debuttare con la partitura che è il concerto dedicato a Rossini. Probabilmente in quella che lui definisce la cosa più alta che Rossini abbia mai scritto. Poi un bel parere di Michele Mariotti al quale viene chiesto cosa ne pensa del ROF. Lei gira i teatri di tutto il mondo. Quando le parlano della sua città e del ROF, cosa prova? Un sussulto di gioia, anche se non mi stupisco. In fondo il ROF si è costruito una fama internazionale ed una grande reputazione e direi che tutto questo è meritato. E' effettivamente così, il ROF è un appuntamento incredibile, culturale della città di Pesaro, riconosciuto davvero in tutto il mondo. Poi c'è una puntualizzazione che vedremo insieme con la lettera che è stata scritta a Franco Bertini, che riguarda il fatto che quest'anno il ROF si sia svolto solamente alla Vitrifrigo Arena. Torniamo sulla questione dei fiumi che, come vedete, purtroppo ancora sono pieni di rami. E qui si fa l'esempio proprio di ciò che è sotto gli occhi di tutti nella città di Pesaro. Sotto i ponti quintali di legname il pericolo delle dighe naturali. Vedete le foto che fanno vedere ciò che avviene proprio in piena città. Ci sono quintali di legname trascinato dalle piene invernali e della primavera scorsa che ostruisce i ponti di Pesaro. In particolare stanno creando una diga sotto quello della statale adriatica sul fiume Foglia. L'assessore Belloni dice, purtroppo ancora non è stato possibile intervenire, ma abbiamo già pronti 20.000 euro per farlo il più presto possibile ed evitare problemi. Vediamo e speriamo che sia così. Montecchio arrestato con 5 kg di marijuana. Pensate, aveva una vera e propria piantagione in casa questa persona che è stata arrestata perché poi ovviamente questa marijuana la vendeva. Quindi a tutti gli effetti era un produttore spacciatore. Se non fosse una questione così grave come quella legata agli stupefacenti, si potrebbe davvero dire dal produttore al consumatore marijuana a chilometro zero, però davvero per fortuna che è stato individuato. Poi un articolo di Franco Bertini divertente che riguarda una cosa che tutti coloro che hanno un'età paragonabile alla nostra ricordano la mitica idrolitina, le bustine che servivano per rendere l'acqua frizzante e poi lui racconta come questa idrolitina doveva essere messa dentro le bottiglie con il tappo in gomma, con la guarnizione in gomma per evitare che sprizzasse fuori questa effervescenza. Quindi davvero una vicenda simpatica. Vedete la foto dell'idrolitina riportata dal resto del Carlino e ricordata da Franco Bertini che poi risponde alla lettera di una persona, di Anna, che ha scritto al resto del Carlino dicendo che ha letto delle magnifiche recensioni su Roff, però queste recensioni su Roff a livello nazionale riportavano il fatto che effettivamente viste le opere di Rossini dentro la vitri frigo arena non è certamente la maniera migliore per poter seguire questo straordinario spettacolo offerto appunto dal Roff e addirittura qui si dice proprio che viene definito addirittura quasi orribile, terribile vitri frigo arena. Franco Bertini risponde effettivamente è vero, quest'anno è andata così, la messa si dice in chiesa, la lirica si canta a teatro, il basket si gioca al parasport. Chiaramente tutti ci auguriamo che per il prossimo anno, per il 2024 in occasione dell'edizione del Rossini Opera Festival inserita nel contesto di Pesaro, capitale della cultura, le opere possano svolgersi in centro città certamente al teatro Rossini e tutti ci auguriamo anche al Palace Cavolini. Ed eccoci a Lido, niente banco ma i turisti protestano, quindi se è vero che la nostra webcam questa mattina ci ha fatto vedere la bellezza del Lido con l'alba, con gli ombrelloni, con questo mare straordinario che c'è a Fano, vedete dopo la chiusura degli sportelli c'è chi è costretto a fare chilometri per un prelievo e ai bar il caffè si paga con la carta. E vabbè questo adesso non è certamente un elemento negativo, sappiamo che ormai i banco ma sono inseriti in quello che è la metodologia di pagamento di tutte e di tantissime attività commerciali, quindi come in tutto il mondo anche in Italia si sta cominciando a pagare il caffè con il banco, però certamente il fatto che a Lido e in tutta la zona quella zona non ci sia un punto di prelievo è molto penalizzante per le attività del posto perché poi tante persone comunque fanno riferimento ancora al contante e quindi non poter prelevare, non poter avere una comoda possibilità per utilizzare un banco ma in una zona così sfruttata turisticamente sicuramente è un handicap. Poi dopo autoveloz e la sicurezza va in porto, siamo sempre a Fano, interpellante alla giunta dei consiglieri del Movimento 5 Stelle che richiedono interventi ben precisi per la sicurezza per quello che riguarda un incrocio molto molto pericoloso a Fano vedete questa foto che ci fa vedere lo scontro avvenuto tra un autobus e una macchina proprio all'incrocio tra via della Marina e via Caduti del Mare dove si vorrebbe intervenire con qualcosa che possa essere utile per ridurre la velocità o un autovelox o dei dossi perché purtroppo in quella zona, in quel punto accadono troppo spesso degli incidenti. Sempre a Fano, peschereccio affonda nel porto, scattate misure antisversamenti, vedete questa foto che ci fa vedere come questo peschereccio sia proprio affondato lentamente nella notte fra domenica e lunedì esattamente ci si è svegliati con questo peschereccio sommerso, adesso immediatamente si sono attivate le autorità per far sì che non ci siano poi sversamenti di quanto era contenuto nella barca. Poi mamma e figlio in bicicletta cadono a terra colpito da un'auto, poi c'è stato un incidente che vedremo anche col Corriere Adriatico che ha visto coinvolto un monopattino edizione record a 30.000 presenze, pensate quante, al paese dei Balocchi 2023, la manifestazione che si è chiusa a Bellocchi l'altro ieri. Invasione dei pannelli, anche Mondavio si ribella al fatto che possano essere messi centinaia se non migliaia di pannelli solari nei territori di Mondavio, tre impianti in arrivo in 10 ettari al confine con San Lorenzo in campo, l'appello del sindaco, regione e governo rivedano la legge, c'è il rischio concreto che sempre più aree verdi meravigliose diventino distese di silicio. Anche a Mondavio, dove le istanze riguardano al momento tre impianti per quasi 10.000 megawatt. Quindi davvero siamo in una situazione nella quale il sindaco di Mondavio lancia un allarme. Il sindaco Zenobi dice uno è già stato autorizzato e verrà costruito nella zona di San Filippo sul Cesano e avrà una potenza di circa un megawatt. Poi ce ne saranno un secondo e un terzo anche verso San Michele al Fiume e poi nella cosiddetta località di Pianaccio. Secondo lui troppi. E poi una notizia drammatica. Trovato senza vita sulla spiaggia 69enne di San Costanzo, è stato rinvenuto il corpo di questo signore. Pensate, a quanto pare sembra che fosse andato a fare una passeggiata in spiaggia. È stato visto da altre persone che in quel momento frequentavano il litorale proprio fanese vicino a torrette, bagni torrette di Fano e hanno rinvenuto questo corpo. Quindi davvero anche questa è una vicenda terribile che ci riporta anche questo alla sicurezza e alla possibilità di avere incidenti gravi. Con Baiardi se ne va un pilastro della cultura. Siamo a Urbino. Le parole commosse del rettore Calcagnini. Preziosissimo il suo contributo alla fondazione Carlo Bo. La città sente unanime il cordoglio per la scomparsa di Giorgio Cerboni e Baiardi avvenuta l'altro ieri a 91 anni. Questa mattina ci saranno le esecui alle chiese dell'Annunziata. Con la scomparsa di Baiardi, dice Calcagnini, perdiamo uno dei pilastri della cultura urbinata del Novecento. Quindi è effettivamente così. Una grave perdita per la cultura della nostra provincia. Ci riporta poi sempre a livello di cultura ciò che Vittorio Sgarbi ha denunciato ieri a Urbino, sempre nel quale dice che secondo lui i direttori dei musei non devono assolutamente essere stranieri. Quindi sarà una delle sue proprio lotte quella di far sì che i direttori dei musei italiani siano tutti italiani. E andiamo poi all'ultima notizia che vi riportiamo dal resto del Carlino. Un bell'articolo lungo di Amedeo Pisciolini, che peraltro ieri è stato anche uno dei protagonisti di un servizio del Tg3, proprio su questi temi. E vedete Amedeo Pisciolini che racconta come i nubi fragili, i disastri nell'entroterra si siano sempre stati. E c'è un'intervista a Edmondo Lucchetti, che si occupa appunto dell'osservatorio Serpieri di Urbino, che da sempre monitora le condizioni del tempo proprio nella nostra provincia, e ricorda due alluvioni, una nel 1865 e una nel 1907, proprio nell'interno della provincia di Pesano, terribili, delle alluvioni incredibili, molto molto simili per esempio a quella che l'anno scorso ha sconvolto Cantiano il 15 settembre, col risultato praticamente di dire attenzione, è vero che siamo in una fase di cambiamento climatico, ma questi eventi ci sono sempre stati. Chiudiamo il resto del Carlino, portiamoci al Corriere Adriatico, tanti anche qui gli articoli che prenderemo in considerazione, titolone, centro, sosta a incastro, per far sì che i posti macchina non diminuiscono a livello del centro, in virtù di alcuni lavori che sono stati fatti per abbellire le vie che portano verso il centro di Pesaro, ci è stato proprio un vero e proprio gioco a incastro per ricavare parcheggi nella zona di Piazzale Carducci. Poi lo spettacolare intervento dell'elicottero, pensate, è arrivato addirittura da Arezzo per salvare un escursionista che si è sentito male ieri sul San Bartolo, pediatria da trasferire, le mamme pronte a scendere in piazza, poi ancora il servizio scuolabus come l'abbiamo visto e poi tanti ladri soprattutto nella zona di Mondolfo e anche qui malore fatale per il 69enne lo trovano senza vita a riva, l'abbiamo appena detto. Un articolo interessante del Corriere Adriatico a pagina 4 nella parte dedicata alle notizie regionali, marche sempre più avanti con l'età, l'INRCA assume e potenzia la ricerca, ha ingaggiati 25 giovani professionisti da impiegare negli studi sull'invecchiamento della popolazione, andiamo a vedere questi dati che sono molto interessanti, pensate che dal 2003 al 2022 la popolazione cosiddetta anziana, cioè coloro che hanno più di 65 anni d'età, sono cresciuti dal 22 al 25,7%. Proprio ieri c'è stato un intervento del Ministro Giorgetti a Rimini in occasione del meeting di Comunione e Liberazione, nella quale ha già detto, ha già messo le mani avanti dicendo che sarà molto difficile che con la finanziaria del 2023 si possa riuscire a raggiungere tutti gli obiettivi. Uno degli elementi più discussi è quello che riguarda la previdenza e lui stesso ha detto che con questo tipo di questione anagrafica in Italia, che poi si riverbera perfettamente nelle Marche, che sono una delle regioni dove l'età media è fra le più alte d'Italia, è certamente un nodo difficilissimo da affrontare, quello delle pensioni perché tante persone, vedete, invecchiano, mentre diminuisce costantemente la percentuale e qui addirittura un punto di meno dal 13 al 12% della popolazione sotto i 15 anni. Quindi con questo indice di natalità il nodo, il problema delle pensioni, davvero sarà difficilissimo da risolvere i prossimi anni e si evince perfettamente anche da questi dati. Pesaro, Rebus, sosta dopo l'arredo, i posti persi in via Curiel si recuperano al Carducci, gli interventi per abbellire diverse vie del centro storico hanno portato alla necessità di togliere degli stali, dei parcheggi dove le macchine prima potevano parcheggiare. Il comune, l'assessore Belloni e tutti i suoi collaboratori si sono adoperati per far sì che buona parte di questi parcheggi vengono recuperati fra Piazzale Carducci dove saranno installati nuovi sei parcheggi blu e otto in via Guidi. Quindi in qualche modo si tenterà di sopperire a queste mancanze. Considerate che poi via Passeri con il restyling diventata più funzionale, lo dice l'architetto Ascani che è colui che ha seguito il progetto e vedete anche nelle foto comunque del Corriere Adriatico come si possa notare la diversità rispetto a prima di queste strade che sono sicuramente state sono state sistemate in maniera migliore rispetto a prima. Poi si sblocca Colombarone, la ciclovia può terminare, intervista anche qui a Belloni che ci racconta come secondo lui ci siamo quasi si va verso l'ultimo miglio per il completamento della ciclabile di collegamento fra Colombarone e Gabice, la ciclovia adriatica che poi sarà intitolata a Marco Pantani. Quindi siamo davvero a buon punto per far sì che venga completata. Proprio recentemente in questi giorni c'è stato un bel intervento di un appassionato ciclista che ha fatto tutta la ciclovia si può dire dall'Emilia Romagna fino a Fano e ha sottolineato come in effetti la parte più bella, più spettacolare di questa ciclovia sia quella del San Bartolo, quindi immaginiamoci quando saranno conclusi questi interventi e soprattutto la pista ciclabile che collega Pesaro a Fano. Quindi davvero un fiore all'occhiello della nostra provincia grazie a questi interventi che speriamo che possano continuare a lungo. Guai a chi tocca pediatria, pronte a scendere in piazza? Si parla di una manifestazione che si sta organizzando per il prossimo fine settimana? Qui c'è l'intervista ad Anna Maria Mattioli che già aveva parlato ieri sugli altri quotidiani, sul resto del Carlino. Anna Maria Mattioli, capogruppo PD in Consiglio Comunale, sostiene la protesta del comitato dove già 600 mamme di Pesaro e altre anche donne in gravidanza stanno aderendo per protestare contro quello che viene definito lo scippo di pediatria dal San Salvatore, quindi il temuto ritorno a Fano. Interviene anche la mamma avvocato, l'avvocato Elena Fabri, nota per le sue posizioni in difesa delle donne, anche lei protesta per questa possibilità, mentre c'è una parola decisamente così super partes espressa dal sindaco di Monbaroccio, Emanuele Petrucci. Non dimentichiamoci che Monbaroccio ha un ruolo importante nella macchina sanitaria in quanto a Monbaroccio il PNRR prevede la realizzazione di un ospedale di comunità dove oggi è ospitato il campo sportivo di Villa Grande con un intervento da 3 milioni e mezzo di euro. Ecco il sindaco di Monbaroccio interviene dicendo stoppa le polemiche, fiducia all'asta, è tempo di unire gli sforzi di maggioranza opposizione per facilitare il raggiungimento di questo sofferto obiettivo, cioè avere un nuovo ospedale a Muraglia. È tempo di far basta con le polemiche, sarebbe meglio dare, anzi conferma fiducia alla direttrice generale dell'AST Pesaro Nadia Storti. Quindi secondo lui le forze politiche in questo momento dovrebbero lasciare, tralasciare le diatrible legate alle diverse posizioni per unirsi e fare fronte comune per la realizzazione dell'ospedale di Muraglia che, come immaginiamo e come tutti possono pensare, prevederà un lungo percorso per arrivare poi alla sua costruzione. Servizio per gli scuolabus è già a rischio, niente stipendi agli autisti dello scopio, l'abbiamo vista già prima, ma riportiamo questa pubblicità, una volta si sarebbe definita quasi pubblicità progresso e questo riguarda invece le truffe agli anziani. È utilissimo riportare questi cinque punti, vedete il nostro Carlo Pagnini che ha girato gli spot per essere sicuri di essere al sicuro. Prima assolutamente legge, mai aprire agli sconosciuti. Seconda, diffidare di chi si avvicina in strada. Mai consegnare denaro per alcun motivo. Eliminare sempre email, messaggi sospetti. Attenzione particolare sul web a chi richiede credenziali di banche o carte di credito. Non accettare proposte commerciali, telefoniche. Sono cinque punti che possono sembrare banali. Non dimentichiamoci che in questi giorni ci sono interviste a livello nazionale di chi addirittura ha lavorato nella sicurezza e nonostante questo si è ritrovato truffato perché per un motivo o per l'altro c'è cascato. Quindi attenzione, grande, grande attenzione. Non dimentichiamoci mai questi cinque punti perché davvero è in realtà, sembra paradossale, ma abbastanza facile difendersi dalle truffe. L'importante è esserne consapevoli. Ortigiuli, comune trova i soldi per frenare degrado e proteste. Dopo numerose segnalazioni sono stati distanziati 50 mila euro, ma da condividere con il San Bartolo, quindi si interverrà sul degrado degli ortigiuli, testimoniato anche da questa foto del Corriere Adriatico. Poi casa, gli ultimi giorni per chiedere gli aiuti. Emergenza casa, ultimi dieci giorni per chiedere i contributi del Fondo Anticrisi. C'è tempo fino alle 13 di venerdì 1 settembre per partecipare al bando e richiedere i contributi previsti dal Fondo Anticrisi 2023. Considerate che le risorse sono pari a 250 mila euro e possono comunque essere richiesti questi contributi da parte di chi fa fatica a pagare l'affitto. Chiaramente ci vogliono dei parametri ben individuati. Ed ecco la vicenda riportata dalla locandina del Corriere Adriatico. Malore sui sentieri del San Bartolo, escursionista, soccorso in elicottero. Sembra che un giovane, peraltro, sia stato tante ore al mare a Fiorenzola di Focara, poi abbia cominciato a risalire la Falesia attraverso un sentiero. Si è sentito male, per fortuna non era da solo, ma la zona era talmente impervia che sono dovuti intervenire pompieri e pensate un elicottero di soccorso arrivato addirittura da Arezzo, quindi questo ha fatto centinaia di chilometri per arrivare sul San Bartolo e poi fare le operazioni di salvataggio spettacolari, vedete, per salvare il giovane e riportarlo in sicurezza. Quindi davvero anche qui sempre grande attenzione quando si affrontano situazioni come questa. Corriere Adriatico che poi ci porta a Urbino per la denuncia che riguarda sempre i fiumi che sono occlusi, vedete, sbarrati dai tronchi. Quei due torrenti sono pericolosi. Se torna la pioggia sarà un disastro. Sirotti scrive al Consorzio di Bonifica per le condizioni dei corsi d'acqua di Miniera e Molino Guerra. Quindi non è solo a Pesaro che si deve intervenire, lo stiamo dicendo in questi giorni. I giornali ci pongono grandissima attenzione perché oltretutto si avvicinano i periodi delle piogge, quindi è importantissimo mettere in sicurezza i fiumi. Fano, trovato senza vita in riva al mare, pensionato, colpito da malore, stava passeggiando all'alba sulla battigia Torrette. La guardia costiera apre un'inchiesta sul decesso. Certamente è stato drammatico il fatto che chi appunto hanno visto questo corpo per terra così esanime purtroppo è stato avvicinato e ci si è subito reso conto che non c'era più niente da fare per questa persona di 69 anni che si è sentita male. Stretta sull'incrocio maledetto, maggiori controlli e autovelox è ciò che richiedono appunto i 5 stelle a Fano. In tre giorni quattro incidenti fra via Marina e via Caduti del Mare, quindi un appello per mettere in sicurezza questo incrocio. Poi l'abbiamo visto con i nostri occhi ieri mattina, questa monopattino tutto storto per terra in mezzo alla rotonda vicino a Sant'Orso, vicino alla zona della Cop di Fano. Ieri mattina dopo le 9 incidenti alla rotatoria Pertini in via 4 novembre, pensate, un 59enne residente a Fano è stato urtato da una C3 e è andato per terra. Chiaramente il conducente del monopattino è stato costretto alle cure ospedaliere. Considerate che il fondo delle strade di Fano è talmente messo male che ci viene da dire che bisogna stare non attenti due volte ma dieci volte di più nel momento in cui si affrontano le rotatorie fanesi immaginiamoci con un mezzo come il monopattino che poggia su due ruote piccolissime. Di nuovo la denuncia del sindaco di Mondavio, sì al fotovoltaico ma lo devono decidere i sindaci dove sistemare i pannelli e torniamo su quello che abbiamo già letto prima col resto del Carlino e poi andiamo in Val Cesano dove ladri nelle abitazioni spariscono gioielli e denaro, residenti scrivono al sindaco subito le telecamere, noi abbiamo paura, diversi furti vedete che si sono svolti, che sono accaduti nella zona di Mondolfo ma non solo nei dintorni quindi davvero attenzione. E poi una vicenda che sicuramente è molto molto fastidiosa perché l'ha subita, ruba la bici a un dodicenne, viene poi inseguito ma scappa, c'è stato proprio un parapiglia in quanto chi ha rubato la bici l'ha fatto praticamente sotto gli occhi del possessore, un ragazzino di 12 anni, ha provato a intervenire anche il padre di questo ragazzino, si sono messi all'inseguimento del ladro in stile veramente ladri di biciclette, non sono riusciti a prenderlo e quindi il ladro se n'è andato con la bicicletta che è stata rubata, davvero anche questo un fatto che ci fa riflettere su come sia difficile far fronte a questi furti e a questi malviventi. Poi un'ultima notizia, passeggiate notturna per scoprire il castello, due date domani e mercoledì 30 per andare a Mondolfo e vedere proprio uno dei castelli in uno dei borghi più belli d'Italia con la passeggiata notturna, appuntamento questo che sarebbe da non perdere. Andiamo allo sport con il Corriere Adriatico, ci spostiamo sul mercato della Vis Pesaro, la Vis valuta alcuni rinforzi definiti last minute, il direttore sportivo Menga, vedremo se riusciremo a fare qualche ingresso, esordio complicatissimo con la SPAL, non dimentichiamoci che la partita si svolgerà il 2 settembre alle 20.45 a Ferrara e sarà proprio l'esordio della Vis Pesaro contro una delle favorite del campionato, quindi una partita difficilissima alle quali speriamo che la Vis arrivi pronta. Anche il Fano opera sul mercato, ma torneremo poi a parlare di Fano con il resto del Carlino perché ci sono notizie che riguardano l'aspetto societario e andiamo alla VL. Guarda che entusiasmo, non ci sono dubbi sul fatto che a Pesaro la pallacanestro davvero smuova tantissimo tifo, tantissimo entusiasmo. Oltre 300 tifosi hanno salutato la nuova Carpegna Prosciutto prima della partenza per il ritiro. Coach Buscaglia inizia una nuova avventura, adesso dobbiamo creare il gruppo e stare bene. E poi ci sono le impressioni del nuovo capitano della VL Tambone che dice di essere emozionato per essere stato scelto come capitano. Poi infine una notizia che riguarda l'Ital Service. Miguelin firma colpo a sorpresa della formazione pesarese. Il campione spagnolo ha siglato un biennale. Il patron pizza, operazione molto razionale senza fare follie. Lui crede nella nostra società, effettivamente così, in bocca al lupo. Quindi al nuovo arrivato dell'Ital Service. Una notizia a livello nazionale. Oggi c'è la finale del salto in alto ai mondiali di atletica Budapest e ci sarà il nostro corregionale Tamberi, Gianmarco Tamberi, per inseguire un altro risultato di prestigio. Un'occhiata anche al fascicolo sportivo del resto del Carlino. Ieri sera ha esordito un'altra delle favorite della Serie A, il Milan, che ha vinto abbastanza facilmente a Bologna, anche se poi in realtà la formazione di Tiago Motta non ha del tutto sfigurato. Però certo che al ventesimo stava già 2-0 per il Milan e non c'è stato poi niente da fare in tema di possibile rimonta. Una bella iniziativa della Vispesaro che, pensate, 125 anni. Non dimentichiamoci che la Vispesaro è una delle società più antiche d'Italia. Poi c'è stata la vicenda del fallimento, il nuovo nuovo. Però di fatto la Vispesaro esiste da 125 anni. Maglia celebrativa dei tifosi. Sarà prenotabile fino a venerdì al circolo di via Campo Sportivo in tre colori. Bellissima questa maglia che celebra i 125 anni della Vispesaro. 10 euro e quindi si potrà avere questo cimelio vero e proprio. E poi anche qui si rimanda all'esordio con la spalla. Interessante invece l'articolo sul Fano per il semplice motivo che si parla delle questioni societarie. Si torna sulle vicende societarie e ci si sta dando da fare per trovare soggetti disposti a aiutare il presidente russo in questa sua terza stagione a Fano. Nei giorni scorsi ci sarebbe stato un contatto dei dirigenti fanesi con l'imprenditore di Ravenna Nicola Caserta e Giuseppe Di Cuonzo che due anni fa aveva allenato l'Under 19 dell'Alma interessati ad una qualche forma di collaborazione con la società. Sul risultato di questo incontro però non c'è ancora nulla di ufficiale. Certamente c'è un certo interesse e speriamo che questo interesse possa sfociare in qualcosa di concreto perché sappiamo quanto il Fano abbia bisogno di risolvere i suoi problemi a livello societario. E poi siamo alla fotocronaca che il Carlino davvero fa in maniera encomiabile sulla giornata che ieri ha visto la partenza della VL per il ritiro a Carpegna con tantissimi tifosi. Guardate che roba, Baia e Flaminia, bellissime queste foto, ci rendono davvero l'idea dell'entusiasmo che c'era ieri. Raduno della squadra con la spinta del pubblico, coach Buscaglia, una nuova avventura. Dobbiamo cercare affiatamente. Poi lui stesso davvero colpito dall'affetto dei tifosi mentre sale sul pullman salutando in bocca al lupo alla VL. Chiudiamo il fascicolo sportivo del resto del Carlino. Andiamo a vedere quali sono gli appuntamenti che proponiamo questa sera con Rossini TV per voi. Alle 21.20 Gradara Wine Passion, uno speciale realizzato in occasione della bellissima manifestazione. Gradara quest'estate davvero è stata ricchissima di iniziative. Continueranno a esserci tantissime le occasioni per visitare quello che davvero è uno dei borghi più belli d'Italia. Il biglietto d'ingresso delle marche venendo da Nord, pensate sulla collina, sulla destra si vede questo magnifico castello incredibile. Questa sera le nostre telecamere sono a Gradara per raccontarci la serata dedicata al vino Wine Passion alle 21.20 su Rossini TV. Poi Rossini News 19.30, il nostro telegiornale con tutte le notizie della giornata, prima edizione alle 19.30, repliche 20.30, 23.30, mezzanotte e mezza, poi domattina 6.30, cioè prima della rassegna e stampa che andrà in onda domattina alle 7.20 e di nuovo alle 13.30. Vi lasciamo alle previsioni meteo, non prima di avervi ricordato ancora una volta la nostra app, scaricala, è gratis, vedete uno slogan così stringato ma decisamente efficace per fare capire come non ci voglia niente a scaricare questa app sul vostro cellulare e grazie all'app avere Rossini di voi sempre in diretta insieme a voi dovunque vi troviate nel mondo. Previsioni meteo, buon martedì a tutti, appuntamento domattina alle 7.20 con Buongiorno Rossini.